Nuova? Veramente da parecchio che non sono nuova. Sei molto tenera. E poi l'altro giorno ti ha passata? Sì, ma niente di che, un bacio sulla guaccia, una foto d'amico. Un giorno lei? Se tu non ci conoscessi, cosa penserei di diventare? Però una bella voce, signorina Bassi. No, nel senso, se tu non sapessi che siamo solo colleghi... Mi stai dicendo che ti piace dare i sacchi. Signorina Bassi! Sì, mi piace dare. Grazie a tutti.